Sì, è vero. Il 22 aprile inizierà il torneo che terminerà il 30 aprile. È un evento sportivo di importanza internazionale con un monte premi importante. Noi contiamo che partecipino ai giocatori di Venue che hanno una classifica importante dalla cinquantesima posizione in giù. È un evento, dal punto di vista sportivo, molto importante e penso anche importante per la produzione del nostro territorio, sia del territorio comunale che della nostra regione. E quindi noi ci abbiamo puntato, è la prima edizione, ma contiamo di continuare e anche per gli anni futuri di sponsorizzare, diciamo, patrocinare questo evento. Ecco, la società di Francavilla si è adeguata, ci sono stati dei miglioramenti, quindi per l'occasione. Beh sì, il nostro circolo sta avendo un'opera di restyling, la stiamo sistemando proprio per dare insomma la nostra migliore squadra, ci stiamo lavorando da un po' e pensiamo di essere pronti per il 21 di aprile. Grazie. In rappresentanza dello Sporting Club Francavilla, che ospita questo challenger, Francesco Ugolini, come sta andando? Perché il lavoro da fare è abnorme, soprattutto prima che cominci il torneo. Certamente, il lavoro è tanto, noi ci stiamo adoperando per far sì che entro il 21 di aprile sia tutto pronto. Ovviamente è l'evento importante per cui ringrazio tutti coloro che mi stanno dando la mano per realizzare, perché il circolo riparte, diciamo, dopo un periodo, un po' di attività. Per cui speriamo e siamo sicuri che l'evento sarà successo e mi aspetto tutti dal 22 aprile al 30 aprile al 5.30 del mare Sporting Club. Come è andata questa idea di Francavilla e del Sporting Club Francavilla per ospitare un torneo internazionale di questo modo? Sì, sostanzialmente si è tutto internazionato grazie ad un amico, Marco Veri, che era in contatto con la mezza di Francavilla e venendo al circolo a un proposto, ci avevo parlato di questa personalità di questo challenge e quindi subito come circolo mi sono proposto per ospitare un'evento. Quindi direi che è andata bene perché sempre siamo qui oggi, tutte queste persone, direi che ci stiamo comportando così. Si rilancerà sicuramente il circolo, ma si rilancerà anche tutta quanta la città di Francavilla e l'Abruzzo perché questo internazionale di tennis, lo dice anche il backdrop alle sue spalle, Abruzzo, città di Francavilla al mare, quindi un evento anche che ha una varianza di promessa l'anno. Certamente, certamente. Il tempo è una città di Francavilla al mare, quindi un rinanzamento particolare per la città di Francavilla al cinema, l'assessore allo sport, oltre che ovviamente all'assessore e all'area della regione consola. Lo scopo è quello di rilanciare il mare, il turistino cruz e lo sport che a tutto questo periodo non so, ma ne abbiamo preso in attenzione. L'ATP manager Semi per far capire la valenza anche tecnica di questo challenge. La valenza di questi tornei è importantissima per lo suo gruppo dei giocatori del futuro. Questi tornei partecipano tra l'altro non solo i giovani emergenti o quelli che sperano di diventare giocatori emergenti, ma anche giocatori più esperti che magari per motivi i fortuni hanno perduto la classifica e quindi questo confronto tra giocatori più affermati e giocatori emergenti diventa molto importante e tecnicamente molto difficile perché passare attraverso questi tornei sicuramente ti dà la dimostrazione del valore di un giocatore. Non ci dimentichiamo che qui in Italia, che è un paese leader per l'organizzazione di questi tornei, attraverso i challenge italiani sono passati giocatori come Ferrero, Casafinne che poi hanno raggiunto i vertici della classifica mondiale, soprattutto Raffaele a Natal che inizia il suo primo torneo professionistico in Italia a partire l'anno 2003. Spiegano che per organizzare questi tornei a Pirate e Montepremi sono tutte le difficoltà dei tornei ancora più importanti. Diciamo che la struttura e l'organizzazione è la stessa dei tornei importanti, ovviamente che gli sponsor, i contratti televisivi non possono essere gli stessi, per cui questi tornei hanno un sogno di sostegno sia delle istituzioni sia degli appassionati perché poi è quella la ragione per cui si fanno questi tornei per portare nei vari circoli d'Italia un tennis di livello e soprattutto che sia seguito dai giovani che poi rappresentano. Francesco Cancellotti, questi challenge sbarco nella prima manutenzione? Sì, la prima edizione è avuta proprio a Branca Villa quindi sarà un torneo come tutti i challenger che si preficherà di far conoscere i tennisti più giovani che stanno cercando di affermarsi e che speriamo tra qualche anno di vedere in televisione di tornei molto più importanti. Ecco, tennisti più giovani, anche se bisogna sottolineare che tanti tennisti importanti della storia di questi challenger sono passati attraverso questi eventi. Sì, sicuramente è lo scopo principale di questi tornei è di ospitare i ragazzi giovani che cercano un tetto per poi affermarsi, si sperai, a livello più alto. Noi lo vediamo dall'esperienza decennale del torneo di Todi e per dire, insomma, i nomi a Tori sono passati giocatori come Dimitrov, Wolfen, Andersson, Bui, quindi giocatori che adesso sono stabilmente, insomma, dei primi 15-10 giocatori al mondo e sicuramente sarà tennis di alto livello e ci sarà anche a dire. Cancellotti è stato tra i primi 30 del mondo qualche anno fa, è un tennis diverso e un tennis molto più fisico, forse troppo fisico, non so più cosa ne pensi che c'è questo. Ma se ti devo dire cosa è cambiato è un po' difficile. Io ho avuto la fortuna, diciamo, di giocare, ho vinto i primi campioni italiani nell'83, con la racchetta di legno, nell'84 con questi nuovi attrezzi che adesso sono ancora migliorati. Tennis più fisico? Forse sì, però bisogna anche riflettere e pensare che agli altri l'anno c'erano i quattro semifinalisti, solamente uno aveva meno di 30 anni, quindi ci sono delle domande da farsi e alle quali è difficile dare la risposta, lo saprei. Tennis più bello o più bello? Secondo me per rendere il tennis un pochino più gradevole si dovrebbe un pochino rallentare le superfici per avere tempo di fare, che ha una buona manualità, gestualità, una racchetta di fare più cose. Logicamente con campi e palle così frequenti, superfici veloci, vedere un tennis diciamo più piacevole diventa più difficile. C'è un tennis che ricorda Cancellotti, almeno in Italia oppure se ce n'è uno che in particolare avrebbe mai capito? Ma non lo so, non credo in questo momento, diciamo, il Cancellotti era un giocatore che non aveva grandissimo talento, era molto preparato artisticamente, passava molto più sull'intensità fisica, quindi l'assessore di giocatori molto talentosa, con meno potente. Grazie. 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 Grazie.